la sessualità di sua maestà. Eccoci finalmente giunti a questo video dove ci addentreremo tra le pieghe del regale sontuoso mantello dell'eros del leone. Prima però permettetemi una piccola parentesi perché in tanti, tantissimi, mi avete chiesto informazioni sui due spettacoli Io Vergine Tu Pesce e Il Giallo Comico Serato Omicidio, le tournee partono entrambe a ottobre, trovate le date pubblicate in tanto di ottobre, poi arriveranno le altre date via via, sono due tournee entrambe lunghe e dettagliate in tutta Italia, i primi di settembre poi verranno comunicati, trovate le info, i contatti dei singoli teatri e vi potete scatenare. Ma adesso scateniamoci con la passionalità del leone. Lo scettro, lo scettro è fallico quindi per il leone proprio ci sta, lo scettro del leone è poi così infuocato? Per certi versi sì, nel senso che è un segno estremamente passionale, di un ardore furente. L'eros per il leone, l'amplesso leonino è un qualcosa dove mente, sensi e corpo devono assolutamente ardere di desiderio senza sé e senza ma, ma questo stesso scettro così 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 fallico e ardente è al tempo stesso così, ard un po' meno. E questo non è un demerito, leoni in ascolto non vi incazzate subito che voi siete per malosetti. No, il mondo dell'ard guarda caso non vanta porno divi e porno dive che presentino un tema natale, diciamo spiccatamente leonino. E questo perché? Perché il leone vive l'eros sì, intriso di una messa in scena e di una messa in scena teatrale quanto cinematografica, ma questa messa in scena dell'eros leonino importantissima è altrettanto, diciamo, forgiata da un protocollo, un protocollo a cui il leone tiene e che non si può, protocollo regale appunto, che non si può, diciamo, eludere ed evitare. In cosa consiste questo protocollo e in cosa consiste questa cinematografica atmosfera leonina. Innanzitutto il leone, quello doc, vive l'eros intriso d'amore. Questo non vuol dire che un'avventura di una sera debba essere per forza amore. No, significa che il leone in questa sua messa in scena cinematografica vuole credere, ha bisogno di credere che in quel momento sia amore o qualcosa del genere, fosse pure che dura due ore, il tempo di un film anche meno, fosse pure che dura molto meno, ma in quel momento è amore. Quindi non rimanete delusi o deluse se poi le luci si spengono e la finzione finisce, ma in quel momento io ho provato, lui ha detto, lei ha detto, ok, ma quello fa parte della messa in scena dove l'amore fa parte dell'eros. Poi scendendo nei dettagli più, diciamo, spiccioli della messa in scena, vi posso dire, per esempio, che siamo ancora in estate, quindi un leone che si rispetti prima dell'amore deve esserci una giornata, una giornata regale, non è che venne uscite così in 4-4-8. Loro parlano di colpo di fulmine, la sua colpo di fulmine ne ha di preparazione. Per esempio bisogna uscire in barca, bisogna uscire in barca, no pedalò, non è che potete affittare e noleggiare il pattino, il pedalò, no, la barca. Ecco, non tutti abbiamo lo yacht, certo, non tutti abbiamo lo yacht, ma barca deve essere, barca, barchetta, barchettina, gommoncino, fate un po' voi, ma deve essere già una cosa che loro vanno così cinematograficamente al vento sulle onde. Poi non so, a fine giornata al mare o se già siete in città o dovunque voi siate si va in un bel ristorante, un bel ristorante, non il ristorantino, la trattoria, lo street food. Questo va bene per il toro. Il leone deve avere un signor tavolo in un signor ristorante dove voi starete vestiti benissimo, dove la leonessa in questione e il leone in questione sfoggeranno il loro luco che non deve essere per forza esagerato. Beccato un leone ascendente vergine troverete un leone, una leonessa che avrà una sua forma di essenzialità, ma sempre sontuosa è questa essenzialità. Insomma, dopo che avete affittato la barca e il gommone, dopo che avete pagato la cena, poi è un pensiero, un pensiero sono 24 rose e rosse al gambo chilometrico. Io ho una mia carissima amica leone che mi dice non è vero, a me piacciono i fiori di campo, sì, però li vuole in una suite, perché lei quando viaggia ama le suite, quindi hanno queste cose e vi dicono i fiori di campo, però vabbè. Ora, in tutta questa sontuosità, finalmente si giunge in camera da letto. Che camera da letto? Una tenda, una canadese? Se avete beccato un leone ascendente acquario, forse in genere, come minimo, dovete avere le lenzuola di raso. Se non le avete, compratele, perché deve essere un talamo regale, dentro cui però avrete la sorpresa, dopo tutti i sforzi, dopo tutta questa cosa che pare una produzione, pare Benur, è la produzione di Benur, dopo tutta questa cosa e dopo una versione anemica della vostra carta di credito, però la soddisfazione arriva, perché a meno che non siate stati così sfigati o sfigate da beccare il leone quello di serie C e ci arriveremo, in genere il leone Doc a letto è un amante generosissimo, che ama dare al partner tantissimo e ama che il suo partner venga assolutamente coccolato e proprio coltivato nel godimento del piacere sessuale. Tutto ciò ha a che fare col protagonismo, con l'egocentrismo e col narcisismo del leone di cui tanto spesso si parla male, ma qualche lato positivo ci sarà. Il lato positivo di tanto protagonismo, narcisismo ed egocentrismo è che da quel letto voi dovete uscire affermando col mondo che mai amante fu più eccezionale di quel leone o di quella leonessa, per cui si daranno con tutto loro stessi, con tutto loro ardore. Se siete stati poi così sfigati da beccare il leone di cui vi parlavo prima di serie C, allora vi troverete dinanzi al classico soggetto maschilo femminile che prima sembrava che e poi in questo caso è che dobbiamo fare, li salutate una volta via, arrivederci. Tornando al primo caso e quello migliore che ci auguriamo tutti che voi state flertando con un leone simile o che voi in ascolto siate leoni simili, ecco a letto entrando proprio nella cosa in sé. Geograficamente parlando, da un punto di vista letterario, sto cercando proprio di fare lo slalono delle parole per andare al Kamasutra. Ecco a proposito di Kamasutra, qual è la posizione prediletta del leone? Varie, ma dominante. Il leone ama a letto essere dominante, è dominante, quindi non prendete subito iniziativa, ariete in ascolto, calmatevi, non prendete subito iniziativa perché la dominanza vuole essere leonina, anche se si tratta di un leone doc desidera avere un amante degno di sua maestà, qualcuno che gli tenga testa. Quindi al momento giusto il leone o la vostra leonessa vi farà capire che è arrivato il momento di, diciamo, di cambiare, ci siamo capiti, ecco potete prendere in mano lo scetro, la situazione, quello ci siamo capiti abbondantemente. A proposito di dominanza legata anche all'esibizionismo, una cosa importantissima per il leone che ama tanto è spogliarsi. Non gli levate questo piacere, ama spogliarsi e voi dinanzi a questo spogliarello dovete essere Marcello Mastroianni di fronte allo spogliarello di Sofia Loren, dovete ammirare questa bellezza senza fine se non è proprio così simulate perché se no li distruggete, proprio annientate il loro ego e amano anche spogliarvi. Anche qui non levategli il gusto, voi arieti non strappatevi vestiti rapidamente indosso come siete soliti fare, voi toro non state lì a mangiucchiare una cosa mentre state facendo senso perché non amano queste cose. Tutto dovesse essere regale, fatevi spogliare. Quali sono le zone erogene del gattone o della gattina regale? Torace, testa e capelli. La chioma, la criniera del leone è foriera di magnifiche sensazioni erotiche. Qual è il segno che giocando con l'astrologia soffia sul fuoco leonino accendendola più non posso? Qual è il segno che lo sfruculia di più? I gemelli. E questo è il partner prediletto. Questo non significa che se non siete dei gemelli o non avete un ascendente gemelli le cose non possono andar bene. Il mondo è bello perché varia e con l'astrologia stiamo giocando, però giocando giocando il gemelli è quello che appunto da buon segno d'aria soffia col suo venticello leggero infiammando l'incendio del leone. Sono una coppia molto mondana, una coppia che vive il palcoscenico del mondo e che con un filo di sano esibizionismo, un filo di sano esibizionismo perché di più si scade nel cattivo gusto, potrà essere una coppia molto molto durevole. Il segno più svantaggiato a volte mi chiedete beh capricorno e vergine, un capricorno doc e una vergine doc guardano il leone come una sorta di pavone che spreca energie nello sfoggiare più maggi incredibili di cui la vergine e il capricorno poco se ne fa. Ma stiamo parlando in lia del tutto generico. Altro elemento imprescindibile dell'erosio leonino è la gelosia. Il leone è un soggetto geloso che gode in questa gelosia, proprio accende il suo fuoco e la pretende in qualche modo anche dal partner. Il leone di fronte a un partner che non prova gelosia lo guarda come un alieno algido. Questo però attenzione, rimaniamo nei limiti del sano perché la troppa gelosia di qualunque segno si parli è sempre soltanto fuoriera di aspetti negativi ed è sempre soltanto conseguenza di maleducazione e insicurezza che purtroppo degenera. Quindi gelosia ma quanto basta. Spero di esservi stati utili e che vi possiate godere appieno col vostro gattone, col vostro gattino, col vostro leone. L'eros a mille. Ciao.